Agici, stanza 216. I risultati non sono buoni. C'è una ridotta motilità degli spermatozoi. Se vuole avere qualche possibilità, dovrà rinunciare all'alcol e alle sigarette. Beviamo una cosa. Siete fatti l'uno per l'altra. Scusate, è colpa mia, non ho guardato. Davvero non mi riconosci? Sono Bahriya. Luna, piacere. Perdonami, non do la mano alle donne. Ho trovato lavoro. Bahriya me l'ha procurato. Bahriya è il wahhabita? Un wahhabita? Ma lo sai che gente è? Fanno il lavaggio del cervello alle persone. Sopravvive ancora la purezza qui tra i fratelli. Fratelli? L'Occidente vuole uccidere la femminilità nelle donne. Voglio solo essere un uomo migliore. No, non stasera. Niente sesso prima del matrimonio. Dovrò anche ridiventare vergine, eh? Pensiamo di essere musulmani, ma abbiamo dimenticato la nostra vera fede. Stronzate. Sei un esperto di questioni religiose? Ti ubriacavi e vomitavi a casa della nonna? Mi ora dai lezioni? La musica è peccato. L'alcol è peccato. La voce delle donne è peccato. Anche ridere troppo forte è un peccato, non è vero? La voce delle donne è peccato.